Posio, siamo a un passo dalla commemorazione, dalla tragedia di Ponte Morandi, il 14 agosto di un anno fa 43 vittime, in quei giorni parleremo delle vittime della commemorazione perché è giusto che sia così, esiste però anche un problema del dopo Ponte Morandi, che è un problema anche del prima, quello delle infrastrutture, un territorio che è ancora carente, Posio. Un territorio che è carente ormai dopo gli anni 60 di cui si è realizzata l'autostrada, che ormai oggi non è più sufficiente e che ogni giorno è ferma per adeguamenti strutturali e manutenzione. Non abbiamo una circolazione alternativa che è l'oreglia bisse e mancano i collegamenti tra la costa e l'introterra, quindi tra la costa e il basso Piemonte, parliamo per la provincia di Imperia, parliamo per la provincia di Savona. Parliamo di queste cose perché il territorio ha bisogno di far arrivare merci, far andare via, per la portualità esistente, quella che vi realizzate, abbiamo bisogno di seguire possibilità perché alcuni, per fortuna, tanti, vengono ancora in vacanza nelle nostre due province, dopodiché i tempi di percorrenza in arrivo e in partenza sono dei tempi che non consentono, quindi di essere interessanti, considerando che il turismo ormai vive una presenza di tre giorni, ce ne mettono un giorno tra andare e venire la coda dal Benga fino a arrivare a Dopposavona, ecco, questo è il problema. Da poco si è parlato del traforo Armocantarana, ci possiamo credere? Ma io spero che finalmente la politica capisca che anche questo territorio deve essere potenziato perché diventa un elemento di collegamento di Cerniera tra la regione Pacal, Basso Piemonte, la Liguria e il pezzo di Lombardia, quindi era uno sviluppo che vede poi un pezzo di territorio isolato, fa male a questo territorio ma fa male anche all'intera Liguria, all'economia delle Ligure.